Tutti sono saliti a bordo convinti che sarebbe stato il viaggio più bello della loro vita. Quanto avevano torto. Che meraviglia. Nicolás Vasquez, primo ufficiale della Barbara de Braganza. Voi siete le sorelle di Giannueva. Fa impressione tanta oscurità. Tuttavia alla fine te ne innamori. Una donna è caduta in mare! Uomo a mare, a bordo signore. C'è stata una lotta qui, non era sola. La donna non è finita in mare accidentalmente. Chi ha ucciso quella ragazza? Ce l'aveva con lei. Su questa nave c'è un assassino. Da questo momento sarà interdetto il libero accesso. Ci vediamo presto. Ciao. Mi gioco tutto in questo viaggio. Ho notato come la guardi. Il mattone può essere accaduto. Ci sono segreti più profondi dell'oceano. Nocci per la Egyptian ha tutta. Anche non c'errella la frase. Alla spent tenni per laratingma infolica. E' la vita non c'errello. Grazie a tutti.